Ciò avviene quando l'esperta reale Angela Lone ha suggerito che Meghan Markle potrebbe essere abbandonata dalla sua agenzia di talenti di Hollywood. Un esperto reale ha affermato che Meghan Markle ha bisogno di essere adorata dal pubblico per mantenere il suo stile di vita attuale. La biografa reale Angela Levin, che ha scritto libri sul principe Ferri e sulla regina Camilla, ha suggerito che la duchessa di Sussex, potrebbe essere licenziata dalla sua agenzia di talenti di Hollywood per la controversia che circonda il libro Endgame di Omid Scobie, dove i nomi dei due reali accusati di commenti razzisti, erano pubblicato. La signora Levin, ha commentato ieri sera su GB News, dicendo che la sua agenzia era inorridita dalle conseguenze del libro. Ha detto? Hanno detto che erano inorriditi. E questo non può riguardare solo i due nomi che sono stati menzionati, ma deve riguardare anche il loro cliente e mi sembra che penseranno molto attentamente a cosa fare dopo. Non ho mai sentito nessuna agenzia davvero famosa essere così chiara su ciò che prova. Quindi penso che Meghan debba stare molto attenta perché molte persone l'hanno abbandonata. Questa agenzia ha effettivamente detto che devi smettere di lamentarti. Devi essere felice e positivo, perché tutti ne sono stufi. Sarà molto difficile per lei ottenere il tipo di glamour che desidera e cose che le facciano guadagnare un sacco di soldi. I soldi sono utili per lei e Ferri non solo perché possono spenderli, e avere un sacco di bei gioielli, e tutte le loro camere da letto e bagni. Ma in realtà penso che sia qualcuno che ha bisogno di essere adorato continuamente dal pubblico. Buongiorno a tutti.